Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa di Montecitorio per una conferenza molto importante per i made in Italy, il panettone è italiano, non è italiano ma è italiano, nel senso che è soltanto il panettone vero, originale e solo quello italiano. Bene, è un'affermazione che comunque ha bisogno di essere suffragata da contenuti adeguati. Io direi che potremmo semplicemente cominciare con i contenuti dicendo che sia la leggenda sia la storia rivelano che il panettone fa parte della storia d'Italia. La leggenda narra che è nato per errore nella Corte degli Sforza, ma i dati storici, precisamente nel 1599, ci dicono che nel collegio Borromeo di Pavia fu rinvenuto il tracce del primo panettone servito agli studenti. E poi troviamo la prima fonte scritta sul lievito del 1853, da Giovanni Felice Luraschi, e tracce dei canditi nel panettone cedro, li troviamo nel trattato di cucina pasticcera moderna del 1854 da parte di Giovanni Vialardi. Io non mi dilungo, è soltanto un flash per dire, per introdurre questa conferenza che arriva, è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, perché viene da riflessioni che sono state fatte in altre sedi e vengono portate, e li ringrazio per averli portati all'interno delle istituzioni, e poi da questo momento si vuole partire per tutelare anche sul piano legale il panettone. Ringrazio la Camera dei Deputati, l'Onorevo Nissoli che ci ha sostenuti e vi faccio ascoltare il saluto, in quanto è impossibilitata di essere presente perché è anche all'estero. Buongiorno a tutti. E' con vero piacere che rivolgo ai promotori della campagna il panettone italiano il mio saluto che estendo anche a tutti i presenti. Ritengo che la tutela del Made in Italy sia fondamentale per la nostra economia ed il panettone è una delle eccellenze italiane che molti ci invidiano e a volte ci copiano. Infatti l'Italian Sounding è un fenomeno molto diffuso nel mondo e lo posso testimoniare da italiana residente all'estero. Tale fenomeno sottrae risorse all'economia italiana, oltre che spesso causare un danno di immagine al nostro paese, perché il prodotto immesso sul mercato non risponde alle caratteristiche di qualità di quello veramente italiano. Dunque benvengano iniziative come questa, che tra l'altro si inserisce nell'alvio del lavoro parlamentare che ho sempre portato avanti, anche presentando una mozione a Montecitorio la scorsa legislatura, a tutela del Made in Italy nel mondo e che è stata approvata in maniera bipartisan. Quindi grazie per voler condividere con le istituzioni le vostre riflessioni che sono sicura apriranno piste di lavoro proficue per tutelare il panettone italiano. Buon lavoro e viva il panettone italiano. Grazie. Grazie anche per questo attestato di vicinanza. Io do subito la parola a Silvia Famà di Cucine d'Italia che è un po' la promotrice di questa iniziativa che ci presenterà, non li presento io perché so che ci tiene lei particolarmente a presentarci gli ospiti che arricchiranno la riflessione. Poi però singolarmente dialogheremo insieme. Mi raccomando i tempi sono un po' brevi però dobbiamo esercitare la virtù della sintesi essendo efficaci. prego Silvia. Grazie e buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa il panettone italiano promosso appunto da Cucine d'Italia, Club Appil e sostenuto dall'Istituto Cooperazione Paesi Esteri, dai maestri del lievito madre, dal panettone World Championship e inoltre l'associazione dei panificatori di commercio Milano e province, da Richmond Club Italia e da Re Panettone. Diamo il benvenuto ai nostri relatori, al critico enogastronomico Luigi Cremona, ai maestri del lievito madre Claudio Gatti, Maurizio Bonanomi, Mauro Morandin, al presidente della federazione italiana Cuochi Lazio Alessandro Circello, al presidente dell'associazione panificatori con commercio Milano provincio Matteo Cunzolo, al presidente Richmond Club Italia Roberto Perotti, al presidente del Rotarian Arte Gourmet Cirioco Acampa, al giornalista e ideatore della Kermess Re Panettone Stanislao Porzio e all'avvocato Francesco Rossi. Allora l'idea della campagna il panettone italiano è nata nell'ambito del convegno il panettone nel mondo, oltre alla ricorrenza promosso dai maestri del lievito madre all'interno del panettone World Championship durante Ost Milano, la fiera leader mondiale dell'accoglienza della ristorazione. Questa iniziativa è nata col cuore, è nata perché ho sentito l'esigenza leggendo i dati, leggendo i dati di col diretti dell'Italian Sounding che colpisce il comparto, solo il comparto agroalimentare per 100 miliardi di euro, che significa oltre 300 mila posti di lavoro e questo trend purtroppo è in rapida scesa. Negli ultimi dieci anni si è registrato un incremento del 70%. Poi passando ai numeri dell'export dati dall'ISTAT, dei dolci delle festività del 2018, si nota che in America c'è una disparità tra l'America settentrionale e l'America centro-meridionale. Nell'America settentrionale esportiamo circa 46 milioni, mentre in quella centro-meridionale soltanto 5 milioni e questo non è un caso. Questo dipende perché ci sono due grandi colossi, che paradossalmente il più grande produttore di panettone non è italiano, è brasiliano, la Brauducco, che produce 200 mila quintali di panettone l'anno, con 6 stabilimenti in Brasile, uno negli Stati Uniti, 7 centri di distribuzione e 140 mila punti vendita in oltre 80 paesi, oltre il Brasile. Questi sono dati tutto che mi fanno pensare che bisogna agire per la tutela del panettone. Inoltre c'è anche la Donofrio, che è un'altra realtà molto importante in Perù. Infatti in questi due paesi noi esportiamo circa, in Brasile, 1 milione e 700 mila euro, mentre in Perù sono soltanto 270 mila euro. Quindi non c'è da mai avagliarsi se in Brasile viva una comunità molto numerosa, circa 25 milioni di italiani, è proprio lì che noi dobbiamo andare a presentare anche il nostro progetto. Nonostante gli Stati Uniti si confermino il primo paese ex-europeo per importe di dolci natalisti italiani, con poco più di 34 milioni di euro, si sta diffondendo la concebolezza tra molti pasticceri che il panettone è un business multimiliardario. Infatti il New York Times nel 2017 scrive che il panettone è diventato una vera ossessione per tutti gli americani, che li producono e li commercializzano tutto l'anno. Un esempio su tutto è Schwarzpel che 13 anni fa ha assaggiato il panettone a Parigi e poi ha deciso perché non portare questo business in America, perché è un business multimiliardario e così ha fatto, ha aperto un'azienda con uno stabilimento di 70 mila metri quadri e vende i panettoni a 60 l'euro l'uno. Passando all'Asia c'è un'altra realtà molto importante che è la leader nel settore dolciario in Giappone con oltre 240 punti vendita e fattura circa 85 milioni di yen, che significa 700 mila euro, con 45 mila pezzi l'anno. Quindi diciamo che l'Italia comunque, nonostante questa realtà, in Giappone riesce a esportare, a fare un discreto fatturato con 6 milioni e mezzo di euro, circa quanto Israele. Invece in Cina, che è un mercato di grandissima potenzialità, ancora non riusciamo a essere presenti e esportiamo circa 650 mila euro, quanto Hong Kong e i Paesi e gli Emirati Arabi. Di fronte a questo quadro non vi sono delle misure adeguate a tutela del panettone. C'è un decreto del 22 luglio 2005 in cui consente l'utilizzo della denominazione riservata panettone soltanto ai prodotti che rispettano il disciplinare previsto dal decreto stesso. Però c'è l'articolo 9, mutuo riconoscimento, che recita. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente ottenuti e commercializzati negli Stati membri o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario EFTA. Poi di questo ce ne parlerà anche l'avvocato Rossi. La campagna del panettone nasce proprio dalla volontà di valorizzare il Made in Italy, il più celebre lievitato Made in Italy, simbolo dell'eccellenza enogastronomica italiana e la sua necessità di tutelare le 43 mila imprese specializzate nella pasticceria italiana con i 155 mila addetti, oltre che delle aziende, dei grandi marchi industriali. Quindi alla fine si punta al riconoscimento del panettone come tipicità esclusiva italiana attraverso una denominazione, e ce ne parlerà sempre l'avvocato tra poco, che ne garantisca l'unicità. Noi chiediamo al ministro delle politiche agricole, Bellanova, l'apertura di un tavolo tecnico per affrontare questo tema. In tale occasione presenteremo anche la raccolta firme. Ringrazio la Camera dei Deputati per averci ospitato e anche all'Onorevole Nissoli per il sostegno. Grazie. Grazie Silvia Famà. Bene. Dei dati importanti sono stati sottolineati sia nell'introduzione che nel saluto, e cioè che in Made in Italy subisce dei forti danni dall'Italian Sounding e dalla tendenza diffusa, ma che è in continuo aumento, di voler copiare il prodotto italiano di qualità. In questo caso il panettone, ma ci sono tanti altri prodotti. Quindi è un impegno, il Parlamento è impegnato in questo senso, lo ricordava nel suo saluto Onorevole Nissoli attraverso anche delle emozioni. Tuttavia credo che i produttori si debbano organizzare come in prima persona per tutelare il prodotto di qualità e fare in modo che ci siano anche gli strumenti giuridici per tutelarlo, sia sul piano interno che sul piano internazionale. Per questa ragione abbiamo chiesto all'Avvocato Francesco Rossi, che è uno studioso molto acuto e attento del diritto amministrativo e non solo, di illustrarci i percorsi possibili e opportuni per la tutela del panettone. Prego Francesco. Grazie. Allora, chiaramente nel poco tempo che mi è consentito potrò fare giusto un'infarinatura cercando di dare una visione ampia di qual è la problematica. La problematica è che noi ci troviamo di fronte a un bene la cui denominazione di vendita, panettone, è di per sé sinonimo di tradizione, di qualità ed è attrattivo per la clientela. Abbiamo quindi la denominazione di vendita che è quasi un marchio ed è una denominazione comunque utilizzata a livello mondiale. Questo è un tema che complica molto. Un altro tema che complica è che la denominazione panettone non ha dentro di sé un richiamo geografico ben definito. E quindi, mentre finora Parmisan e altre situazioni erano aiutate da questo richiamo geografico, qui noi non abbiamo richiamo richiamo geografico. Noi abbiamo un forte richiamo di tradizione culinaria. Va bene? Originale, sì, Milano, Lombardia e poi comunque divenuta simbolo dell'Italia intera. E dobbiamo andare quindi a tutelare un prodotto italiano in quale quadro? Il Made in Italy, come voi saprete benissimo, a causa dei accordi infracomunitari e quindi del codice e della disciplina dell'edogane comunitario, il Made in Italy può essere utilizzato anche per prodotti che non siano interamente prodotti in Italia. La stessa tutela contro l'italian sounding è una tutela che, diciamo, viene dopo comunque alla possibilità di produttori di vendere ed è più difficile da ottenere perché richiede spesso pronunciamenti e azioni. Quindi è una situazione complessa. Qui noi abbiamo, peraltro, questo prodotto che non indica il nominativo panettone, non indica un prodotto fatto da un'impresa singola o da un gruppo di imprese coperto da know-how. Noi abbiamo un prodotto che è tradizionale, la cui ricetta tradizionale è di fatto conosciuta, non è un segreto, è industriale. Ciò che distingue la qualità del prodotto è la capacità, la maestria di dosare gli ingredienti e di farli, cucinarli, trattarli con determinate cose. In questa situazione noi abbiamo la disciplina comunitaria dei marchi di qualità, come rivista da ultimo, diciamo, dal regolamento comunitario 1151 del 2012 che ha sostituito quasi totalmente quelli precedenti, che prevede tre tipologie di marchi di qualità. La STG, che è la specialità tradizionale garantita. La DOP, che è la denominazione di origine protetta. E l'IGP, che è l'indicazione geografica protetta. Parliamo di un prodotto che richiama una tradizione, quindi saremmo portati a ritenere applicabile l'STG. Se non fosse che l'STG tutela e copre, diciamo, non i produttori italiani, ma che il prodotto eventualmente venduto in Europa o in tutti quei paesi che hanno stretto, extraeuropei che hanno stretto accordo con l'Europa, applichino un'eventuale, diciamo, disciplina prevista per il prodotto che eventualmente venisse a essere, ad ottenere il marchio STG panettone. Chiunque, greco, turco, chiunque potrebbe vendere panettone. Quindi, se il problema è tutelare il panettone come metodo di produzione, come qualità del prodotto, uno può fare l'STG. Ma in realtà non è questo che si cerca. Il panettone, essendo proprio incarnato nella cultura culinaria italiana, agroalimentare, deve essere tutelato con riferimento anche all'origine geografica di produzione. A questo punto abbiamo due possibilità, DOP e IGP. La differenza tra DOP e IGP è che la differenza più rilevante è che la IGP prevede la possibilità che parte della produzione, anche la maggioranza dell'attività di produzione, quindi trasformazione, eccetera, sia fatta, cioè parte della produzione sia fatta nel territorio italiano. Il resto può essere fatto anche in altro territorio. Quindi, praticamente, faccio l'impasto in Turchia e finisco di cuocerlo in Italia. Va bene? L'impacchetto. Questo è l'IGP. Non tutelerebbe definitivamente i produttori italiani. Se noi riusciamo ad ottenere un IGP, potremmo indicare nel disciplinare, nella realizzazione del prodotto, alcune tipologie, alcuni elementi, alcuni materiali che non possono che essere fatti qua, prodotti qua, utilizzati qua. Quindi questo sarebbe un elemento indiretto di protezione, ma non sufficiente. La DOP, in realtà, impone la produzione integrale nello Stato italiano. A quel punto noi ci dobbiamo porre il problema della filiera. Siamo in grado, a livello artigianale, certo, ma a livello industriale, di garantire la DOP, cioè di imporre una DOP senza che questo limiti il prodotto, i produttori italiani. la nostra scommessa è sì, in realtà. Dipende quello che si vuole fare. Se si vuole proporre un prodotto industriale, oppure se si vuole proporre un prodotto di eccellenza. Con la necessità anche, in questo caso, ovviamente, di implementare la filiera di tutte quelle che sono le produzioni dei materiali, fino alla lavorazione ultima. Questo sarebbe un elemento... Il tempo è scaduto. Poi è chiaro che avremmo molte altre cose da dire. Ma è importante lanciare questo messaggio. Ovviamente bisogna fare un salto di livello. Noi abbiamo finora sempre considerato la normativa di tutela della qualità di origine, garantire, eccetera, 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 come elemento per tutelare i prodotti di nicchia di piccole zone italiche. Adesso noi dobbiamo fare il salto di qualità. Andare a navigare nel mare internazionale, comunitario e mondiale, tutelando quella che è una tradizione ormai di tutto il territorio nazionale. Grazie. 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 Grazie, Francesco. Grazie veramente per questo panorama completo, sintetico ed efficace. Grazie anche per aver individuato la pista che riteniamo sia la migliore da seguire. Poi bisognerà vedere che è quella della tutela del patrimonio nazionale attraverso la DOP, che è un problema che vale anche in generale per tutto il Made in Italy. Ecco, qui abbiamo tra noi anche un critico enogastronomico Luigi Cremona e ci parlerà dell'importanza appunto di procedere a definire una denominazione per la riconoscibilità del prodotto. Ecco, io direi che le denominazioni sono fondamentali per dare un esempio di riconoscibilità e di certezza della qualità. Ecco, prego, professore. Grazie, grazie di questo invito. Per me è un onore e un piacere. Sono 40 anni che io mi occupo di queste cose e ne ho visto in un po' di tutti i colori. Per questo Panettone è italiano e bellissimo. Però vorrei anche sottolineare alcune cose. Ci preoccupiamo molto dell'Italian Sounding. Dovremmo, secondo noi, fare anche molta autocritica. Quando noi andiamo a fare la mortata della Bologna in metà della pianura padana, quando il prosecco dalle colline di Valdobbiade si fa da Trieste a Padova, quando il bitto che è nato su una sola valle si fa in tutta la Valtellina, quando il taleggio che è nato in un'altra valle si fa in tutta la Lombardia, mediamente ne abbassiamo la qualità. Quando andiamo all'estero, provate a comprare un pecorino romano in un supermercato, sono invasi i supermercati di New York che si vedono tranquillamente, si mangia a questo periodo romano. Nel 90% dei casi, non dico che è da buttare via e mangiare, ma è così. Quindi noi dobbiamo difendere assolutamente il prodotto italiano, però l'Italia deve puntare a una sola cosa, all'eccellenza, altrimenti non andremo da nessuna parte, altrimenti è pienamente giustificato che sta all'estero e va a comprare un prodotto locale perché gli costa la metà e forse anche a volte più buono di quello che noi mangiamo all'estero. Quindi questo lo dobbiamo avere ben chiaro e non è solo la difesa del nostro patrimonio, ma è la difesa di chi in Italia si spacca l'anima per fare prodotti buoni. Noi dobbiamo difendere innanzitutto l'eccellenza e anche l'eccellenza dei nostri produttori che ci sono, nel panettone ci sono eccellenti produttori artigianali, c'è anche dell'industria che fa un ottimo lavoro, quindi non va criminalizzata, assolutamente, però dobbiamo stare attenti a come presentarci al mondo. quindi è fondamentale, è chiaro fare delle cose in modo regolare, dei disciplinari che alzino l'asticella e non l'abbassano. Io purtroppo ho visto in tanti anni come man mano si allargano le zone, si alzano le resi, si abbassa la qualità. Ora qui il problema è molto delicato perché ovviamente è una DOP che dovrebbe essere italiana e quindi è molto difficile resistere alla tentazione di allargare una maglia e far entrare tutti perché fa gioco magari politicamente come in altri sensi. Quindi da parte mia c'è l'entusiasmo per questa iniziativa, c'è il desiderio di farne parte, c'è la volontà di difendere comunque la vera eccellenza italiana e su questo mi trovate sempre d'accordo. Grazie, grazie veramente. L'eccellenza italiana nulla toglie altre cose, però bisogna essere chiari anche attraverso il marchio in maniera che il cittadino e il consumatore possa scegliere in maniera informata. Ecco, per fare questo anche ci sono delle manifestazioni e qui abbiamo il maestro Claudio Gatti che è maestro di Evito Madre e ci parlerà del panettone World Championship, il ruolo delle competizioni. Ecco, le competizioni evidenziano le eccellenze, vero maestro? Sì, rifacendomi a quello che ha detto Luigi Cremona, anche noi maestri di Evito Madre puntiamo solo e strutturamente sulla qualità dei prodotti, quindi stiamo mettendo posto un disciplinare molto molto fatto bene, anche perché negli anni i tempi cambiano, i prodotti cambiano, quindi anche il disciplinare italiano bisogna fare qualche modifica. Quindi il campionato del mondo che abbiamo organizzato su Milano, tutti noi maestri di Evito Madre, è stato proprio per uno scopo di condividere di un confronto di come si fa, di come si produce un panettone italiano artigianale. Questo ci è andato molto bene perché abbiamo avuto molto successo e quindi abbiamo assaggiato Milano dei grandi panettoni. I maestri che hanno partecipato erano sicuramente dei meglio che c'era sul livello mondiale. Abbiamo operato questo dialogo, questo confronto anche con gli stranieri perché è giusto che sia così. Tutti insieme dobbiamo avere un'immagine globale, un'immagine di un panettone fatto di qualità. Il nostro scopo dei maestri di Evito Madre è proprio quello di far conoscere il vero panettone italiano, come si produce nel modo più sano possibile e con un metodo anche innovativo. Quindi in questi anni è cambiata un po' la filosofia anche delle lavorazioni, delle materie prime. Quindi è giusto fare dei sani confronti e comunicare quello che noi in questi anni abbiamo cambiato un po', abbiamo trovato di nuove frontiere per dare un self-flight anche più lungo al nostro prodotto senza usare né conservanti né emulsionanti. Quindi questa è la nostra lotta dei nostri maestri di Evito Madre. Quindi il campionato del mondo è proprio servito per farci conoscere e per dare a tutto il mondo un'immagine di come si fa il vero panettone italiano. Bene, grazie maestro. E adesso vi prego di lasciare il campo a altri amici che dibatteranno su questo. Nella fattispecie Alessandro Circello, Cirieco Acampa e Roberto Perotti. Ecco, Alessandro Circello è il presidente della Federazione Italiana Cuochi del Lazio e la preghiamo di portare anche la sua e quella della Federazione dei Cuochi sulla sua posizione su questo tema, sul tema delle denominazioni per la tutela del prodotto di qualità. Grazie. Grazie intanto per l'invito, grazie per l'invito. La FederCuochi, come sempre, tutelando la categoria il bello e il buono dell'Italia per quanto riguarda l'agroalimentare, non può che il panettone è un elemento simbolo che rappresenta in Italia l'eccellenza dei prodotti delle festività. nel mondo ho notato che il panettone italiano, infatti ne parlavo questa mattina in radio, in intervista, sono stati in Cina e anche negli Emiri Arabi, il panettone italiano viene mangiato durante l'anno come eccellenza dei prodotti da forno, dei prodotti dell'antica arte d'orciale italiana. Quindi in Italia giustamente è tradizione mangiare nelle festività, ma nel resto del mondo si mangia sempre. Si mangia sempre e con l'importante che sia fatto come il maestro ci insegna, quindi con le lievitazioni giuste, con gli ingredienti giusti, anche perché dentro c'è rappresentato il miglior burro, i migliori candidi, i migliori ingredienti che rappresentano l'Italia. È un prodotto che rappresenta a 360 gradi l'arte della panificazione italiana, l'arte del lievito, perché l'Italia nella pasticceria è famosa molto per questo, la Francia per altre cose, ma noi abbiamo il sapore, il gusto e anche il prodotto sano, perché mangiare un prodotto di questi livelli, quindi con questa qualità è anche facilmente digeribile. Devono essere tutelati tutti gli ingredienti che sono all'interno, quindi come diceva l'avvocato prima, bisogna fare cerchio di tutelare questi ingredienti e far sì che ci sia questo disciplinare di questa ricetta, un po' come adesso col Ministero della Salute, insieme alla Federcuochi stiamo cercando di alleggerire un po' la cucina italiana, ma non la matriciana la stravolgiamo, se la matriciana ci va il guanciale, ci va il pomodoro, ci va la pasta, il pecorino romano top, quelli sono gli ingredienti. Magari si può eliminare l'olio extravergine di oliva perché c'è un guanciale e quindi si può abbassare la dose, e si può migliorare con la tecnica per dire se la pasta la facciamo al dente è più digeribile e in questo caso quindi i maestri panificatori, i maestri pasticceri devono magari portarla al giorno di oggi, quindi è importante però il disciplinare degli ingredienti, quindi gli ingredienti giusti che in qualsiasi parte del mondo, per chiamarsi panettone, mettendo anche la bandiera dell'Italia e il simbolo italiano deve essere secondo me ancora più tutelato perché spesso l'Italian Sounding impatta tantissimo, ecco qualche giorno fa in un convigno che abbiamo fatto qui alla Camera parlavamo dell'impatto sul falso alimentare, quando poi il cliente straniero, l'italiano all'estero riconosce il prodotto giusto, buono, sano, coincina le mele italiane le vendono a 150 euro al chilo perché sono sane, perché sono fatte in un microclima diverso, con una bioderolità che ha un gusto, un sapore e soprattutto c'è sicurezza alimentare, dall'altra parte del mondo i prodotti magari sono meno buoni, meno saporiti, a volte anche meno sani, quindi la salute parte anche da tavola. Ecco lei ha citato un aspetto, grazie innanzitutto, un aspetto molto importante e ha parlato della sicurezza alimentare, io voglio ricordare che in Italia, in Europa e in Italia soprattutto vige un principio che non sempre nel mondo è parte del contesto alimentare, cioè il principio di precauzione, il principio di precauzione in Italia è attuato in maniera molto scrupoloso per cui i trattamenti sono fatti in maniera rispettosi della natura e della salute dell'essere umano, ecco questo è molto importante, però io non mi voglio dilungare, poi salute dell'essere umano, qua vicino il presidente del Rotarian International Art & Gourmet che è anche medico perciò dicevo la salute, ecco il panettone, ricordiamo il panettone nasce come un pane di Natale più arricchito perché per dare segno e significato alla festa, parte diciamo della dieta normale perché è un pane e questo pane per i canditi sono simbolo della festa, dell'allegria allora, segnare un momento particolare, però nel rispetto anche di quell'essenzialità che è il pane, che è fatto con la farina, che è parte fondamentale della nostra dieta e della nostra cultura, prego Ciriaco. Grazie dell'invito, sempre un piacere partecipare a questi eventi, io rasconto la nostra esperienza particolare perché normalmente il Rotary è un'associazione di servizio, molte persone non sanno bene che cosa sia, che cosa serva, ma serve appunto per servire gli altri, in questo caso noi abbiamo fatto un'associazione particolare all'interno del Rotary, si chiama Rotary Art & Gourmet, in pratica per promuovere l'arte e la cucina italiana, legando, sfruttando in senso nobile del termine il Rotary, perché il Rotary ha un'arma importantissima, la capillarità, noi con due clic ad aggiungere un club delle isole Fiji, dico per dire, e questo ci permette di interagire con tutti gli italiani o persone di origine italiana che vivono in qualsiasi parte del mondo. Io qualche volta che ho viaggiato per qualche congresso, eccetera, appena sapevano che c'era un italiano da Roma e una volta, qualche volta mi scappa di dire che io in realtà sono nato a Napoli e scatta la denuncia per circonvenzione di incapace, perché questi diventano dei bambinoni. Allora dove arriviamo noi? Innanzitutto attraverso borse di studio, cioè noi portiamo ragazzi, grazie all'aiuto anche dell'onorevole di Soli, di Gianni Lattanzio, ne abbiamo portati alcuni da istituti importanti americani e li abbiamo ospitati, è stata una cosa anche abbastanza impegnativa da sostenere economicamente in una situazione in cui trovare danaro non è molto facile, infatti ci finanziamo da soli, e istituti appunto di prestigio abbiamo portato dei ragazzi qui in Italia, li abbiamo fatti frequentare, istituti alberghieri oppure a corsi di cucina perché diventassero, innanzitutto imparassero veramente le procedure giuste e corrette per realizzare il prodotto, ma anche per diventare loro stessi ambasciatori, quindi testimoni, anche perché noi facciamo opera anche quindi di educazione, noi innanzitutto ci chiamiamo Italian Renaissance anche come sottodice, ci piace tutto ciò che è italiano e quindi ci poniamo come obiettivo l'educazione, cioè questi ragazzi li formiamo, poi se ne tornano a casa, generalmente cerchiamo di portare ragazzi di origine italiana, quindi sono ancora più appassionati nel testimoniare quello che viene fatto e poi sfruttiamo la diffusione del messaggio, cioè ragazzi quando tornano nei paesi di origine portano qualcosa, ma non solo, anche noi quando vogliamo lanciare un messaggio e usiamo il rotary come veicolo ci riesce molto più facile arrivare in ogni punto capillare, Sud America, Stati Uniti perché sono molto attenti a quello che noi rappresentiamo. Grazie infinite, mi taccio perché il tempo è tiranno. Bene condividere queste esperienze, grazie, grazie Ciriaco, siamo entrati un po' nell'ambiente internazionale, abbiamo qui Roberto Perotti, presidente del Richmond Club Italia che ci parla della percezione del panettone a livello internazionale. Grazie. Buongiorno a tutti, una parola solo per dire cos'è il Richmond Club, è un club che racchiude i panificatori con un attimino più di voglia di crescere, fa parte di un circuito internazionale e io sono il presidente per quello che riguarda l'Italia. Il panettone italiano all'estero è un prodotto in continua crescita, è un prodotto ricercato da tanti paesi e se noi andiamo anche a fare un giro in quello che succede in rete vediamo che in Inghilterra ad esempio sta prendendo il posto al Padding, un prodotto tipico dalle feste natalizie inglesi, in Germania sta prendendo il posto dallo Stollen e quindi è un panettone, il panettone quindi è un prodotto veramente in crescita. La cosa importante, la cosa che è già stata detta prima è il prodotto italiano d'eccellenza panettone che viene ricercato, sul mercato c'è tanta cosa ma la ricerca è proprio quella. La Francia è uno dei paesi dove viene importato più prodotto italiano in Europa, per i paesi dell'altro mondo parlo ad esempio della Cina c'è ancora molto lavoro da fare, il panettone è un prodotto richiesto però è un prodotto dove il mercato è ancora molto ampio e si può veramente fare dei numeri. L'altra cosa che volevo dire importante è che il panettone italiano artigianale è un prodotto che è andato in controtendenza rispetto ad altri prodotti ed è riuscito l'artigiano italiano a togliere un po' di mercato all'industria ma soprattutto è riuscito, ha obbligato l'industria a rivedere i propri panettoni, il proprio prodotto per renderli più buoni perché l'industria con la guerra dei prezzi aveva abbassato di molto la qualità l'artigiano in Italia è riuscito a fare questo e quindi penso che sia una cosa molto importante è un percorso da percorrere tutti insieme. Grazie. Grazie Alberto Pelotti, intanto lasciamo il posto poi all'altra persona, sono arrivati gli altri due amici, il maestro Matteo Cunzolo che è presidente panificatore di Confcommercio Milano e Provincia quindi è una realtà molto importante e ci presenta l'evento di Milano e la sua esperienza a Taiwan. Grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, posso riportare la mia esperienza di settimana scorsa a Taiwan, sono stato invitato da un'università del food nella città di Kaushon per presentare quello che era il panettone perché comunque girando per lavoro mi sono reso conto che all'estero c'è voglia di conoscere, c'è voglia di mangiare bene, c'è voglia del prodotto italiano. Quindi uno dei nostri compiti sarà sicuramente anche quello di raccontare all'estero e di mostrare all'estero quello che è realmente il panettone italiano e quali sono le nostre capacità. Detto questo sicuramente avremo bisogno di raccontarlo anche sul nostro territorio, raccontarlo sul nostro territorio come? Creando degli eventi, raccontando al grande pubblico quello che è il panettone italiano, quello che noi vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Detto questo il 14 dicembre all'interno di Palazzo Bovara, Corso Venezia Milano in una sede di Conf Commercio, ci sarà un evento dedicato al panettone italiano, sarà un evento destinato comunque alla beneficenza e alla condivisione, alla condivisione del panettone italiano e in tutto quello che racchiude il panettone come è stato detto prima, comunque festività, famiglia, il calore e lo stare insieme. Grazie. Maurizio Buonanomi, maestro e lievito madre, panettone artigianale e industriale. Grazie innanzitutto. Io sono un piccolo artigiano della periferia di Mirano, ho imparato questa arte fortunatamente dai vecchi, per cui porto avanti una vecchia cultura, una vecchia filosofia, quello che è il prodotto per me più importante nel mio lavoro. Abbiamo creato questo gruppo per portare avanti e preservare, cercare di trasmettere alle nuove leve questa arte. Ho avuto la fortuna di girare spesso anche all'estero e oltre oceano per tramandare, per insegnare ad altre persone questa arte. E in uno di questi fattori mi sono riscontrato anche con una grande realtà, diciamo industriale, ma industriale è un po' un termine sbagliato per questa azienda. In questo caso la Don Q è una grande azienda dove viene prodotto panettone tutto l'anno, panettone e pandoro vengono impastati, cotti e venduti tutto l'anno in diverse centinaia di negozi di questa grande azienda. Qui è nata una sorta di collaborazione nel tempo, perché? Perché questa gente ha capito, ha notato l'evoluzione del panettone avvenuta nel corso degli ultimi 30 anni, si può dire, perché negli ultimi 30 anni il panettone si è evoluto in modo incredibile e in positivo, per cui hanno compreso il prodotto e vogliono apprendere la tecnica per poter gestire questo ciclo di produzione a livello artigianale. Perché ho detto che non è un'industria? Perché è un grande laboratorio dove fanno numeri rispetto a un artigiano più alti, ma vengono fatti completamente a mano. Cioè l'industria è tutto automatizzato, qui no. Ci sono forni più grandi, impastatici più grandi, ma viene fatto tutto a mano. Per cui questa cosa è nata non tanto per fare un business a livello industriale, perché il loro business è ben altro, però per fare, cercare di far conoscere ai consumatori oltreoceano questo prodotto straordinario italiano. Per cui io sono a favore di divulgare, di cercare di tramandare, di cercare di far comprendere a chi vuole questa cosa, perché no. Cioè il panettone dolce straordinario italiano, secondo me, andrebbe come fece ai tempi addietro Angelo Motta, pioniere del panettone. Il panettone è stato lanciato nel mondo da lui. Sostanzialmente ha iniziato il suo viaggio, che è andato via via scemandosi. Perché? Perché la grande industria, per contenere i costi, ha dovuto a discapito della qualità. Per cui il panettone, fatto da un artigiano, è fatto con le materie prime migliori, gestito con le tecniche migliori, ha una vita breve, perché un panettone artigianale non può durare mesi. Un panettone artigianale ha una vita limitata per via di tutti gli ingredienti che lo compongono e per via dell'assenza categorica di conservanti, emulsionanti, aromi strani o quant'altro. Le nuove conoscenze a livello tecnico degli artigiani, panificatori o pasticceri hanno fatto sì che si è riusciti ad ottenere dei livelli anche di shape life del prodotto, gestendo il lievito, lievitazioni, ricettazioni, cotture, allungando anche di un qualcosa in più, che non è il canonico 30 giorni, ma non sono neanche mesi, la vita del prodotto. Per cui l'evoluzione è anche in questo settore. La materia prima è cambiata, le tecniche sono cambiate, la conoscenza è cambiata, per cui bisogna evolversi. C'è stata l'evoluzione. Grazie a voi. Grazie, grazie infinite. Ci sarebbe tanto da parlare, ma il tempo stringe e già siamo in limite. Barbara Garibaldi, l'importanza di stabilire regole precise per il riconoscimento del panettone. Buongiorno a tutti, intanto sono la portavoce di Mauro, che oggi non è potuto essere presente per motivi di salute, sono sua moglie. Mauro Morandin, scusatemi. La cosa, insomma, sarò brevissima, condivido pienamente tutto ciò che è stato detto fino ad ora, in modo particolare le cose dette da Luigi Cremona, dove esiste, come possiamo dire, un punto critico su quello che sono le materie prime italiane, perché il prodotto panettone è nato come eccellenza di tutta una serie di prodotti all'interno, quindi per esempio esiste per noi la necessità di trovare prodotti come l'uva, in questo caso l'uva australiana, che è la cinque corone, che è quella prevalentemente usata nel panettone, che è assente oggi nel mercato italiano. Quindi se questo vogliamo fare bisogna anche coinvolgere naturalmente tutta una serie di produttori che a livello italiano oggi forse non ci sono ancora presenti o sono pochi che possono soddisfare le nostre esigenze, così come nei burri, così come in tante altre cose. E quindi questo è un punto fondamentale. Seconda cosa, secondo me molto importante, è quella che noi come maestri del lievito madre abbiamo l'obbligo e il compito di coinvolgere anche tutti i piccoli produttori, perché in Italia ci sono tantissimi piccoli produttori che non sono conosciuti e che lavorano nel loro piccolo ambito, che devono essere portati fuori, perché in questo caso bisogna veramente fare gruppo, collaborazione, lavorare insieme e crescere insieme. E per questo è necessario, secondo noi, come gruppo dei lieviti madre, strutturare proprio un lavoro di equip per un disciplinare che sia estremamente rigido, un disciplinare che innanzitutto faccia parte di una condivisione e poi che si utilizzi il più possibile tutte le materie prime che sono presenti in Italia, che possono far parte di un albo, così come esiste tutt'oggi, per esempio nel bio, dove la struttura è già esistente, dove esistono appunto i produttori disponibili a dare un prodotto di eccellenza e a questo si fa fonte. E poi bisogna ovviamente tener conto del fatto che a fronte di questo c'è una grande storia di cui bisogna tenere presente. E quindi tutte le procedure, le lavorazioni, i modi di utilizzare la frutta, i modi di lavorare le materie prime, ovviamente devono far fronte a quello che è l'esperienza italiana, la professionalità italiana che è importantissima. Perché noi stiamo portando avanti un discorso che è oltre che economico, culturale, storico, è la società italiana. È proprio la società italiana che deve essere portata di nuovo fuori, che deve essere rivalutata e che deve dare di nuovo un minimo di professionalizzazione anche ai giovani. Vi ringrazio e spero insomma di essere stata sufficientemente chiara nella mia esposizione. Grazie a lei. E ringrazio anche della collaborazione di tutti quanti perché credo che sia una cosa molto importante questo incontro e su cui bisogna lavorare tutti quanti in modo forte. Grazie. Grazie a lei anche per le parole di speranza. Stanislao Porzio, giornalista, ha fatto un lavoro molto importante nell'ipotizzare il riconoscimento UNESCO. Ce lo illustra brevemente. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. In sintesi, nel 2007 ho scritto un libro monografico sul panettone, sulla sua storia e sul suo presente. Ho incontrato tantissimi pasticceri, quelli che sono presenti oggi tutti, per esempio, e quindi ho cominciato a capire che cosa è davvero o può essere un panettone. Successivamente ho pensato a far nascere una manifestazione che mettesse tutte insieme queste grandi, enormi professionalità, le quali sono riunite a Milano a partire dal 2008. Oggi, che si celebrerà il dodicesimo anniversario di quella data e con esso la dodicesima edizione di Re Panettone, perché così si è chiamata la mia manifestazione, vorrei andare un gradino più in là. A dire la verità ho già cominciato l'anno scorso, come Luigi sa, perché è stato mio sodale in questo lancio. Mi sono reso conto, scrivendo questo libro e poi affrontando questo mondo, che tutte le procedure connesse alla creazione del panettone sono un patrimonio straordinario, incredibile di tradizione, di cultura artigiana. A parte il fatto che poi il panettone è un pezzo di cultura italiana anche in altro senso. Piaceva a Manzoni, piaceva a Verdi, ci hanno scritto sopra novelle, racconti tanti scrittori. Quindi, quale, se non il riconoscimento dell'arte di fare il panettone, quindi l'arte diciamo che in origine è stata quella dei pasticceri milanesi potrebbe meritare di più di essere candidata a patrimonio immateriale dell'umanità unesco. C'è riuscita la pizza, che è della mia terra, perché fra parentesi sono napoletano, ma milanesi di adozione e amante sperticato del panettone. C'è riuscita la pizza che lo merita assolutamente, penso che possa, anzi debba, riuscirci anche il panettone. Grazie a tutti. Grazie a lei e complimenti. Credo che le iniziative possano intersecasse e contribuire all'unisono al successo del prodotto italiano di qualità. Credo che oggi, in questa sede, una sede istituzionale, abbiamo dato un contributo della società civile alla tutela e alla promozione del vero Made in Italy. Quello che ci fa onore, quello che testimonia il nostro patrimonio culturale nel mondo. Grazie e le conclusioni a Silvia Fiamatti. Mi auguro che il panettone italiano non rimanga solamente un bello slogan, uno slogan successivo, ma che diventi presto una realtà. Grazie a tutti.